Di cuore un augurio di buona Pasqua, nella convinzione che se ci sentiamo a volte come quel Cristo crocifisso, arrivi anche per tutti noi il momento della ressurrezione e il momento del riscatto. Auguri di vero cuore. Con l'augurio di una auspicata ressurrezione della scuola si conclude la riflessione pasquale che il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Sondrio ha inviato in questi giorni a tutto il personale della scuola, agli studenti e alle loro famiglie. L'inizio della campagna vaccinale ci induce a sperare ad un'alba ormai prossima. Dietro le nubi vediamo la luce, dice Molinari, quella che riporterà i ragazzi nelle nostre aule. Dobbiamo davvero essere sempre più ottimisti di fronte a quello che vorrebbe metterci davvero sulla croce. Dobbiamo cercare di fare appello a tutte le nostre forze, nella scuola come in tutti gli altri settori. Ci muoveremo con grande prudenza partendo dalla scuola dell'infanzia e arrivando alle medie, poi coinvolgeremo anche le superiori, magari sempre con una percentuale parziale di studenti in presenza. Questi piccoli passi, scrive il provveditore, ci aiuteranno a riacquistare sicurezza e serenità, con la convinzione che la strada percorsa è maggiore di quella che dobbiamo ancora percorrere. Cerchiamo di leggere la Pasqua che arriva come il segnale di una possibile luce che ci arrivi ad illuminare, ci faccia riscoprire quella via d'uscita che tutti stiamo attendendo, fiduciosi, grazie ai vaccini, grazie alle cure, grazie a tutto ciò che di bene arriva. E insieme agli auguri davvero esprimo la mia vicinanza a tutti coloro che sentono in modo particolare questo momento di difficoltà, il mondo della scuola ma anche il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro, il mondo dei giovani che cercano lavoro o dei giovani che hanno perso il lavoro a causa di questa situazione. Questa esperienza alla guida del nostro sistema scolastico mi ha mostrato quanto amore c'è nella scuola e per la scuola, conclude Molinari, un amore infinito e immenso che non si può raccontare ma solo percepire. quarter neue manifice